Silenzio! Silenzio! Lo vede che cosa combina la sua paziente, dottor Jung? La dica di smettere! Signorina Stirrae, per favore! Un piacere, dottor Jung! Permette, professore! La dica di smettere! Oggi verrò dimessa, dopo essere stata in ospedale per un anno Mi chiamavo Sabina Sperrain Quando morirò, voglio che il dottor Jung abbia la mia testa Solo lui potrà aprirla e sezionarla Voglio che il mio corpo sia cremato E che le ceneri siano sparse sotto una quercia Su cui sia scritto Anch'io sono stata un essere umano La dica di smettere! 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 Grazie a tutti.